ciao papi! ciao! bene? si! allora il progetto di questa settimana cos'è? questo! una cassettiera? ma non hai mica fatto una? si ma questa è diversa, è una cassettiera cnc ma senza cnc mi sembrava che non avessi ancora comprata la cnc, fortuna! si non ancora però! ma cioè spiegami un po' allora cnc è controllo numerico computerizzato questo no non ce l'abbiamo inutile che lo ribadisci hanno capito però questa insomma il computer c'entra qualcosa ti spiego allora io ho pensato al fatto che l'altra volta ho pubblicato un progetto di una cassettiera però aveva delle dimensioni standard a larghezza altezza profondità però mi son detto magari qualcuno ha bisogno di una cassettiera più grande più bassa più stretta più lunga e come fa e cerco cercato una soluzione e te la vado a spiegare praticamente questa cassettiera si adatta perfettamente a tutte le esigenze e necessità di spazio all'interno dei laboratori questo perché perché ho preparato un file excel per il momento solo un file excel però penso di fare anche la versione html versione html significa che il software che vorrò creare possibile aprirlo con un semplice browser di internet per il momento creato la versione excel significa che uno apre questo file excel va ad inserire tutta una serie di dati e il programma gli sputa fuori un listato con i pezzi da tagliare con ti spiego un po meglio ad esempio i dati da inserire sono questi allora l'altezza totale quindi io so che devo andare ad occupare un certo spazio e ho a disposizione una certa altezza totale la vado a inserire poi c'è la larghezza totale ovvero questa distanza da qua qua poi c'è la profondità quindi le tre dimensioni che mi vanno identificare a definire la mia cassettiera semplicissimo le vado a inserire all'interno del mio file excel un altro un'altra misura che vado a inserire la sporgenza del top come vedi la parte superiore sporge rispetto alle spalle sport sporge di una certa una certa distanza la devo andare a inserire anche questa nel nel file io spiego anche cioè do dei consigli su quali sono le misure da inserire ad esempio in questo caso la sporgenza del top io consiglio di inserire almeno una sporgenza pari allo spessore del frontale dei cassetti in modo tale che quando il cassetto è chiuso venga a filo perfetto poi vado a inserire l'altezza da terra in questo caso non lo vedi però la cassettiera ha un fondo questo qua che ha una certa altezza da terra questo nel caso in cui si abbia la necessità di creare uno zoccolo ad esempio quindi l'ultimo cassetto non è a filo diciamo un pavimento ma lo voglio più rialzato magari per poter pulire sotto sì perfetto come come l'esempio dell'altra cassettiera che ho realizzato quella che avevo già realizzato sì quella avevo fatta mi sembrava 5 centimetri da terra in modo tale che ci sia un vuoto sotto che è possibile o se uno vuole coprirlo con un zuccolino oppure lasciarlo aperto per poter appunto come dici tu pulire ok quindi c'è l'altezza da terra poi fondamentale il numero di cassetti il programma ti consente di inserire il numero di cassetti in base al numero di cassetti ti verrà un'altezza del frontale chiaramente come ti ho detto prima il programma ti dà una mano ti dà anche dei consigli e ti pone dei limiti è chiaro che se fai una cassettiera come questa alta 45 centimetri e se tu andassi ad inserire 15 cassetti il programma ti segnala che c'è un errore un incongruenza questo perché chiaramente non si può avere un'altezza del cassetto inferiore ad un certo valore anche perché costruttivamente non sarebbe neanche realizzabile mi sembra a memoria che questo valore sia pari a 8 centimetri qualcosa del genere quindi vado inserire il numero di cassetti la fuga tra i cassetti la fuga tra i cassetti è la distanza che vado a lasciare tra un cassetto e l'altro anche in questo caso il programma consiglia ed ha dei limiti consiglia di avere una fuga almeno di tre millimetri questo perché perché questi tre millimetri sono sia un valore sia diciamo estetico voglio dire una maggior o minore distanza tra i cassetti ma anche funzionale nel senso che sono quella tolleranza minima che io devo garantire affinché i cassetti non si vadano non vadano a toccare uno con l'altro è una sorta di tolleranza costruttiva per tener conto della di errori dire piccole imprecisioni che ci possono essere in fase di taglio dei pezzi chiaramente non siamo dei professionisti siamo degli ubisti sbagliare di un millimetro un millimetro e mezzo diciamo ci sta quindi lasciare una fuga almeno di tre millimetri ci ci salva diciamo da questi piccoli errori poi fondamentale è lo spessore del legno che vado a utilizzare ad esempio io ho utilizzato sb da 15 millimetri per la struttura e per i cassetti e 9 millimetri per i fondi dei cassetti però mi son detto non è detto che nei laboratori ci siano ci sia a disposizione questo ad esempio come nel nostro caso se volessi realizzare replicare un cassettiera però non ho spessore 15 o spessore 18 andando ad inserire nel programma gli spessori automaticamente il programma aggiorna tutte le misure e mi dà il listato corretto per spessore io poi ho suddiviso cioè ho messo spessore struttura quindi struttura un unico spessore lo vado ad inserire anche in questo caso ci sono dei limiti ci sono dei range da rispettare non posso andare a inserire 4 millimetri di spessore struttura perché anche in questo caso costruttivamente e anche staticamente non sarebbe possibile realizzare una cassettiera con 4 mm di spessore non riuscirei neanche ad avvitare le viti ok quindi ho spessore legno struttura spessore legno dei cassetti ad esempio voglio realizzare struttura con un certo spessore e i cassetti con un altro spessore poi ho spessore delle guide che sono questi listelli qua io ho messo laterali nel caso in cui volessi o avessi a disposizione del legno diverso con altri spessori e poi lo spessore del fondo anche perché di solito il fondo si fa un filino meno spesso del resto della struttura come nel mio caso utilizzato appunto 9 millimetri per il fondo 15 per tutto il resto però appunto andando ad inserire appunto tutti questi dati andando a compilare questo foglio il risultato è questo cioè un altro foglio un altra un altro un listato una distinta pezzi con le dimensioni di tutti i pezzi e il numero e il numero anche il numero di brava si è preparata anche il numero di pezzi che io devo andare a tagliare il tutto poi è corredato da tutta una serie di immagini illustrazioni che mettono in evidenza le le altezze le dimensioni insomma a cui faccio riferimento nel file e che rendono insomma la comprensione del progetto ancora più più semplice da realizzare speriamo che come dia sia apprezzata e guardiamo un po più nel dettaglio anche il il file stesso come composto quali sono i dati da inserire come inserire i dati quali sono appunto le informazioni a cui prestare attenzione insomma e poi chiaramente se qualcuno avesse dei dubbi delle perplessità può semplici iscriverci può semplici scrivere al nostro indirizzo mail che è il infocchiocciola come valetta bocciata vai il nostro indirizzo mail è infocchiocciola bravissima promosso ti assumo ok allora via con il filmato delle andiamo a vedere andiamo a vedere il filmato bene siamo tornati dove c'eravamo lasciati adesso diciamo due parole magari sui 1000 iscritti eh direi siamo molto contenti di questi 1000 iscritti non ce l'aspettavamo e festeggiamo si ringraziamo tutti e quindi come già anticipato in un precedente video abbiamo l'idea di fare un concorso abbiamo già comprato il materiale e stiamo per realizzare delle lampade lampade da arredamento da soggiorno da camera da letto insomma insomma dove preferite le vedrete dove volete mettere le mettete sono tre lampade e il concorso sarà appunto dedicato a voi basterà essere iscritti al canale lasciare un commento al video e chi ha i social può anche condividere uno dei nostri video sui social così magari qualche vostro amico parente che è interessato al fai da te ci vede bravissimo bravissimo il concorso probabilmente sarà settimana prossima o al massimo tra due settimane quindi impegni familiari permettendo dovremmo pubblicare tutto settimana prossima però c'è sempre un punto interrogativo quando si hanno due figli e una moglie ok quindi iscrivetevi al canale indipendentemente dal corso iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto indipendentemente dal concorso iscrivetevi al canale mi raccomando per rimanere aggiornati mettete nei commenti sotto dei feedback su questo file soprattutto chi prova diteci quello che pensate esatto se provate a realizzare questa cassettiera diteci se funziona il nostro metodo insomma se avete dubbi scrivete tanto risponde a tutti ok io mi sono fidato del file che io stesso ho composto quindi ho messo delle misure non a caso ma delle misure sensate quindi ho messo mi sembra 45 30 e 60 di larghezza ok ed è venuta? è venuta si tutto non hai taloncato qualcosa? no no tutto è tornato e niente quindi lasciateci nei commenti i feedback su questo progetto soprattutto su quello che avreste cambiato migliorato vostri suggerimenti le vostre critiche pollice in su se il video vi è piaciuto pollice in giù se non vi è piaciuto e dicici perché ok perfetto e questo file dove lo trovano? lo trovano scaricabile sul sito? www.hfm2017.com bravissima nella tezione progetti da home page ci sono tutti gli altri progetti che abbiamo già cavato tipo il barco sega, la cassettiera, la Dima e i racchettoni e ci sarà anche questo file perfetto quindi non ci resta che salutarci e darci appuntamento al prossimo video sempre qui sulla Happy Family Makers ciao per il tempo ci siamo dimenticati di due figli sì ciao